I mini cantieri per i comuni sono uno sforzo pazzesco di risorse sul piano organizzativo e lavorativo con dispendio di risorse umane e logistiche a fronte di lavori molto spesso di poca rilevanza al punto tale che molti comuni spesso rinunciano ad attingere a questo tipo di finanziamenti e quando si legge in un comunicato stampa firma di Caltanissetta protagonista redatto a seguito di alcune affermazioni esternate dal sindaco Giovanni Rubolo. Voglio fare solo una premessa, ancora una volta il sindaco Rubolo spaccia dei progetti come progetti suoi e anche questi mini cantieri, giusto che si sappia, ma credo che lo sappiano tutti, forse l'unico a non saperlo era proprio il sindaco sono dei progetti nati da una legge regionale del 1996 per cui sono più di 20 anni che molti comuni ne utilizzano proprio per fare dei piccoli lavori di manutenzione, come giustamente diceva lei però dietro c'è un lavoro importante da parte degli uffici del comune che devono organizzare tutto quanto e spesso appunto non si avvalgono di questa legge regionale, di questi finanziamenti per fare dei lavori e addirittura lui ha messo in un articolo uscito la settimana scorsa che è un ottimo lavoro che sta facendo la propria amministrazione comunale e anziché finanziare con soldi a pioggia senza nessun riscontro utilizzerà questo nuovo sistema per fare dei lavori a Caltanissetta chiaramente anche queste sono notizie che non sono proprio veritiere perché comunque sono progetti nati 21 anni fa e non di certo dal comune di Caltanissetta, il comune di Caltanissetta ne ha utilizzati anche in passato ma non è un'idea del sindaco Ruvolo Caltanissetta protagonista interviene anche in merito al cosiddetto bonus migranti chiedendo chiarimenti al primo cittadino proprio il sindaco che parla del bonus immigrante come ulteriore risorsa per finanziare questi cantieri vero è che la legge prevede che i soldi che vengono erogati dallo Stato, queste 500 euro per ogni immigrante ospitato presso il comune possono essere spesi per qualunque motivo ma il sindaco proprio perché forse non conosce la legge 29 del 96 non sa che vengono finanziati totalmente i progetti per cui la spesa che verrà fatta per questi lavori verrà totalmente finanziata e non occorrerà attingere a questo bonus migranti noi chiediamo invece al sindaco Ruvolo di farci sapere quanto ha percepito da queste entrate del bonus migrante e come ha intenzione di spenderle o come le ha già spese grazie a tutti grazie a tutti